1 2 e 3 ecco il volantex ranger allora questa è la mia prima recensione relativa ad un moto agliante devo dire che complice forse lockdown quest'anno ho deciso di riappassionarmi appunto a questo particolare hobby cioè quello del dell'aeromodellismo con particolare riferimento all'impiego degli aglianti o dei moto aglianti come in questo caso perché moto aglianti perché come si può notare c'è un motore una parte in questo caso posteriore che svolge la funzione ovviamente di propulsore sia in particolar modo per ciò che riguarda la l'acquisizione di quota poter quindi raggiungere le quote di un certo livello sia come eventuale strumento di sicurezza soprattutto se si vola in pendio e quindi ci possono essere delle situazioni di carenza di condizioni allora devo dire che per ciò che riguarda questa nuova generazione di aeromodelli apprezzo con in modo molto particolare le soluzioni tecnologiche che vengono adottate e che vi vado ad illustrare brevemente dopo aver un attimo smontato le ali allora intanto possiamo iniziare dai materiali allora il modello è strutturato sia con materiale plastico che con materiale in polipropilene espanso praticamente polistirolo di ottima qualità come si può notare anche dotato di una certa robustezza per ciò che riguarda invece le plastiche tornando appunto sulle plastiche inizialmente ero abbastanza scettico posto che le plastiche su modelli di questo tipo sono state introdotte diversi anni fa almeno una decina di anni otto anni fa forse nell'ambito del noto modello phoenix di hobby king devo dire che invece sono stato piacevolmente smentito perché da un lato possiedo già il phoenix 2000 della modster non della volantex non della stessa marca ma devo dire che il modster è praticamente il brand europeo diciamo così della volantex così si può dire o comunque una sottomarca o comunque una marca che realizza modelli con gli stessi materiali allora la plastica è particolarmente rigida e anche faccio difficoltà a definirla anche di setoso è una plastica quasi appunto ruvida e setosa mentre per ciò che riguarda la cappottina è invece un materiale sempre plastico ma di natura più decisamente più liscia andando alla componentistica apprezzo in modo molto particolare le nuove soluzioni tecnologiche connesse all'installazione della coda cioè dal timone direzionale che è questo che l'elevatore cioè il cosiddetto picchiacabra questo perché come si può notare sono presenti uno, due, tre e quattro viti su un lato e sull'altro della coda che vanno a, diciamo, su cui si può installare il corpo costituito appunto dal direzionale e dall'elevatore direzionale che a sua volta è collegato all'elevatore con due viti interne che non vi vado a mostrare perché appunto ho già montato la coda ero scendico anche sulla scelta di posizionare anche questo risale ormai una tecnica, una tecnologia una soluzione tecnologica ormai particolarmente diffusa anche nell'ambito dei brand più blasonati mi viene in mente Multiplex la Multiplex con il suo fan glider anzi scusate il fan ray ed è quello di inserire i servocomandi praticamente annegandoli non all'interno della fusoliera e utilizzando dei bauden di questo tipo cioè dei rinvii particolarmente lunghi e per certi aspetti forse meno precisi ma installandoli direttamente nella parte finale ancora che questi siano visibili certo che questa soluzione comporta un rischio cioè il fatto che soprattutto in fase di atterraggio si possa andare a rovinarli a rovinare gli ingranaggi ma in realtà c'è da dire che comunque per come sono strutturate queste tipologie di modelli è molto difficile che si vada a toccare appunto l'ingranaggio il modello viene fornito già completo di tutto addirittura con anche un piccolo cacciavite per poter procedere con tutti gli avvitamenti quindi la posizionamento delle vidi del caso una soluzione che invece non mi piace è l'utilizzo di questi rinvii allora le squadrete sono spettacolari cioè comodissime sono due elementi in plastica che si vanno ad installare e ad incastrarlo mediante un semplice incastro mentre per ciò che riguarda lo strumento ovvero proprio del rinvio ci sono questi appunto clips che sinceramente non mi fanno impazzire preferisco soluzioni con brugole perché assicurano una maggiore precisione nell'effettuazione dei settaggi appunto definitivi sulla posizione forse vi starete chiedendo perché comunque sia la pancia che vi faccio vedere ad esempio i bordi di entrata alari nonché i bordi di entrata diciamo così i bordi di entrata assolutamente dell'elevatore nonché i punti di giunzione siano fibrati io li abbia fibrati ma per un semplicissimo fatto per una questione legata ai luoghi dove io volo volo in posti che non sono sicuramente definibili come dei diciamo dei prati all'inglese né dei come si chiamano dei pendii con diciamo con vegetazione rada e quindi con quelle classiche erbe non particolarmente sviluppate ma in veri e propri noi li definiamo campi di patate per cui è comunque opportuno buona cosa andare ad assicurare una maggiore robustezza al tutto anche considerando che in termini di peso assolutamente non comporta nulla nessun aggravio allora come dicevo sono già come dicevo è praticamente già tutto installato e un'altra soluzione che ho particolarmente apprezzato è lo strumento dell'eclipse che si possono notare come strumento di congiunzione devo dire che questa soluzione è decisamente efficace l'ho già sperimentata appunto sul Phoenix V2 e da due metri e devo dire che è deciso assicura un ottimo modo di congiunzione è decisamente efficace altra questione interessante è che questa carlinga questa fusoliera presenta come si può notare un altro altri due fori che vanno da una parte all'altra della fusoliera per inserire un'altra baionetta questa è quella che viene data in dotazione poi se ne può inserire un'altra perché perché il profilo alare è identico tra le ali che hanno una dimensione complessiva pari a un metro e sessanta come in questo caso nel modello che per ciò che riguarda i profili alari delle ali con metratura pari a 2 per cui io paradossalmente chi possiede questo modello può comprare separatamente ed esclusivamente le ali da 2 metri per un complessivo di apertura alare pari a 2 metri e installare su questo modello non a caso forse si riesce a notare internamente sono presenti ben 4 4 cavi di collegamento per la possibilità ovviamente di installare anche flap perché sulle ali da 2 metri con lunghezza pari a 2 metri sono previsti anche sono appunto configurati e previsti anche i flap proseguiamo poi con l'illustrazione del contenuto della fusoliera allora la fusoliera come potete vedere è completamente pre-assemblata con tanto di clips a velcro comunque elementi a velcro per poter posizionare in location in posizione differente le batterie allora per volare con questo modello viene consigliata la taratura da 3000 mAh addirittura in realtà lo standard è 2000 e 2 ma perché perché questo è un modello che è strutturato per effettuare FPV cioè anche da controllo remoto quindi poterlo anche manovrare da remoto quindi andando ad installare tutta una serie di strumentazione che permette praticamente di lasciarlo come se fosse un drone programmato oppure con questa tipologia di cupola cupola il cupolino che si installa molto facilmente è predisposto e quindi viene fatto volare in questo modo è predisposto per l'installazione di una action cam o una micro cam per poter effettuare delle riprese aeree io l'ho inserita più per curiosità peraltro perché voglio fare comunque un video di inaugurazione con ma non è mio interesse particolare infatti per la verità io vorrò tendenzialmente farò volare questo modello tendenzialmente con questo con il suo cupolino nero originale allora come dicevo internamente è tutto preconfigurato e preinstallato l'unica cosa è che nella versione diciamo standard il collettore che è questo giallo è di tipo xt6 connettore che può essere facilmente adattato con degli adattatori io uso batterie con appunto connessioni di tipo dins per cui ho comperato questo adattatore per pochissimi euro bene io penso di avervi detto tutto se possono aggiungo che viene fornita nella confezione anche l'elica che è facilissimamente montabile e se vogliamo un altro tallone d'achille come è stato evidenziato anche da altri aeromodellisti decisamente più esperti di me è il sistema di attacco che è in plastica del motore ovviamente il sistema di attacco del motore che ha cassa rotante per una potenza di 1400 kilowatt e il punto di attacco però è in plastica che non è il massimo diciamo così come struttura è anche vero però che questo è un motore retrostante per cui molto difficilmente andrà ad impattare con qualcosa che lo possa in qualche modo staccare dalla fusoliera dal corpo principale dalla fusoliera bene per quanto mi riguarda è tutto sono molto curioso di far volare per la prima volta questo modello sono certo che mi darà molte soddisfazioni per cui niente vi vi rimando al primo appunto al made in flight un classico di alcuni video che ho recentemente pubblicato per ora è tutto intanto grazie e se li acquisterete buoni voli e soprattutto felici atterraggi post-creditum altra caratteristica che apprezzo particolarmente in questa nuova generazione di aeromodelli è la presenza sulle due semiali di comodi e facilmente percepibili con i polpastrelli delle mani centri di gravità come forza si potrà notare per cui è molto semplice procedere con il centraggio che nel caso di utilizzo di batterie da 3000 mAh sarà fortemente arretrato nel senso che la batteria dovrà essere fortemente installata proprio nella parte più anteriore possibile della fusoliera nel caso invece di utilizzo di una camera un action cam e quindi l'impiego di una batteria come consigliato da 2200 mAh in questo caso la batteria sarà posizionata più nella zona centrale diciamo verso il centro diciamo così della fusoliera per andare a compensare il tutto in considerazione del peso ovviamente dell'action cam ok per questo è tutto scusatemi ancora per il post scritto per il tempo per il tempo per il tempo Grazie a tutti